Salve a tutti, mi chiamo Sergio, io vivo in Australia dal 1986 e ho deciso di partecipare alle parlamentari del Movimento 5 Stelle per provare a portare in Senato la mia esperienza politica, sociale ma soprattutto umana. Ora che mi rendo conto che voi avete un sacco di video da guardare e quindi come si dice in questi casi sarò breve. Tra l'altro avendo io un curriculum più lungo della media non sarei qui a ripetere le cose che potete già trovare sul mio profilo russo. Ci sono però due punti che mi stanno particolarmente a cuore. Innanzitutto essendo il Movimento un fenomeno abbastanza nuovo non solo per l'Italia ma direi per tutto il mondo è stato portato avanti principalmente da persone giovani e pieni di entusiasmo. Ma in questi cinque anni siamo cresciuti molto e quindi queste lezioni sono il momento giusto per portare all'interno del Movimento quel patrimonio di esperienza, saggezza e professionalità che spesso è presente nelle persone mature, come me diciamo. E poi c'è un altro fatto che per me è altrettanto importante. Noi italiani abbiamo vissuto in paesi lontani delle esperienze diverse e quindi oggi siamo depositari di alcune conoscenze che potrebbero essere usate per ispirare in Italia dei modelli di comportamento, di onestà e di efficienza che potrebbero fare del paese in un paese normale in cui questa competenza e questa efficienza siano la norma. Nel caso venissi eletto voglio utilizzare tutti quei canali che la tecnologia ci mette a disposizione per instaurare un rapporto bidirezionale con gli italiani che vivono all'estero che sia quindi di beneficio non solo per loro ma anche per gli italiani in Italia. Questo è tutto per ora, grazie dell'attenzione e come diceva Totò, vota Antonio, vota Antonio, vota Sergio, vota Sergio!